In questa lezione parleremo di sharing economy. Partiremo dalla definizione del concetto di sharing economy, poi andremo a vedere come la sharing economy può essere d'aiuto alla pubblica amministrazione collaborativa e poi andremo a vedere alcuni casi di successo. La sharing economy è riconducibile a quelle insieme di pratiche di consumo di beni o di servizi che avvengono tra persone. Nella sharing economy però l'atto di consumo è subordinato alla condivisione di risorse e di proprietà messe a disposizione tra più utenti. È un sistema economico nuovo ed è stato così definito inizialmente dal professor Benkler della Yale Law School nel 2004, quindi già più di dieci anni fa. È un fenomeno però che è anticaretici, che tutti noi possiamo ricordare, e cioè portiamo l'esempio della condivisione in auto, quella cosa più banale. In questo momento noi usiamo piattaforme che permettono, ad esempio, di condividere passaggi in auto, quello che 20-30 anni fa era fatto con il semplice autostop, o così come quello di mettere in condivisione beni, che è alla base di molte economie basate sul baratto. Gli aspetti innovativi della sharing economy derivano essenzialmente dalla modalità con cui la stessa è permessa, cioè tramite piattaforme tecnologiche che permettono di far incontrare domande e offerte di beni e di servizi. Quindi la base di questo principio è proprio la piattaforma, la piattaforma tecnologica che avvicina domanda e offerta di servizi, spesso anche dislocate in parti diverse del continente. Molti hanno già usato i servizi vantaggiosi come Uber, come Airbnb, come AppWalk, che sono in grado di mettere appunto in contatto utilizzatori e proprietari. La sharing economy, quindi, prevede l'utilizzo di piattaforme tecnologiche basate su Internet per connettere gruppi di persone e permettere loro di fare un uso più vantaggioso di beni, di servizi e di altre risorse, quali, ad esempio, le competenze personali. Mettere in comune beni e lavoro attraverso piattaforme digitali consente di, prima di tutto, cambiare e sperimentare nuovi modi di esprimersi. Permette di ricavare importanti risparmi, permette di liberare risorse e permettere un'efficienza maggiore dei nostri beni e del nostro tempo. Non esiste una classificazione della sharing economy, ma è possibile articolare le diverse esperienze in tre tipologie. E l'ecomento comune ai tre approcci, ripeto ancora, è il ruolo della tecnologia e in particolare delle piattaforme online di scambio. Il primo approccio è l'approccio cosiddetto comunitario. È un approccio basato prevalentemente sulla economia del dono e dello scambio. Esempi sono i gruppi di acquisto solidale, le cooperative sociali e il baratto. Quindi sono forme di scambio basate esclusivamente sul non profit, quindi in assenza completa di guadagno, e che servono proprio per condividere beni e servizi tra gruppi dei pari. Piattaforme di riferimento per questo approccio sono Zero Relativo, una piattaforma italiana per il baratto di oggetti, oppure il portale Teloregalo, un portale dove si possono cedere oggetti di cui non abbiamo più bisogno. A livello internazionale è interessante l'esperienza di freesycle.org, che è un network di oltre 5.000 gruppi per il riuso in ambito internazionale. L'approccio digital peer-to-peer è il secondo approccio di riferimento per la sharing economy. Lo scambio e la condivisione avviene tra privati, quindi peer-to-peer, grazie quindi alle piattaforme tecnologiche che permettono il servizio, normalmente però dietro il pagamento di un fee. Quindi in questo caso c'è sempre uno scambio tra privati, ma mediato da alcune piattaforme che mettono a disposizione un servizio. Nel campo della mobilità gli esempi sono BlaBlaCar, per la condivisione di passaggi in auto, oppure EasyCar, oppure Traffic, la prima piattaforma italiana per la condivisione di auto fra privati. Altri esempi sono a livello internazionale TaskRabbit, che è un portale che serve per mettere a disposizione task, cioè competenze, capacità, oppure il noto e famosissimo Airbnb, per cui io metto a disposizione un posto per una residenza, può essere una stanza o un'abitazione, sempre appunto attraverso il ricorso di una piattaforma che fa da scambio. Ora, rispetto al primo approccio, questo approccio appunto chiamato Digital Peer-to-Peer introduce però l'elemento business. Chi mette a disposizione il singolo bene o il singolo servizio ne ricava un beneficio, un beneficio economico. L'approccio social business è l'ultimo approccio di riferimento. Sono le attività più diffuse, ma anche probabilmente quelle più lontane dalla logica di sharing economy. Sono quelle che la Boltzmann chiama di consumo collaborativo. Le piattaforme tecnologiche permettono di accedere a servizi e prodotti di condivisione forniti a privati, però per finalità di business. Gli esempi più noti sono quelli del car sharing, car to go, enjoy, solo per fare alcuni esempi di servizi che si stanno diffondendo a livello anche nazionale, anche italiano. Quindi io come interlocutore, sempre mediato da una piattaforma, non ho un altro pari, non ho un altro cittadino, non ho un'altra famiglia, ma ho una società, una società che fa questo di mestiere, una società quindi che mette in condivisione un bene, come in questo caso l'automobile. Lo stesso esempio vale per il più noto e discusso Uber, per cui accedo a un servizio fornito comunque da dei privati con finalità di business. a un'altra famiglia di business.